Ora Gengis Khan ha in pugno tutta la Mongolia. Oltre i suoi confini ci sono due vasti imperi, la Cina a est e la Persia a ovest. La Persia è il prossimo obiettivo, poiché ci separa dai ricchi pascoli dell'Europa. Ma prima Gengis Khan ha un altro conto in sospeso. Dopo essere stati testimoni della potenza della nostra cavalleria, i cinesi dissero di volere la pace. Ci promisero perfino supporto per la campagna a ovest. Ma ora che ci siamo allontanati dalla Cina, hanno deciso di non inviare gli uomini e le armi che avevano promesso a Gengis Khan. È tempo di un'altra dimostrazione. La Persia dovrà attendere ancora una volta prima di scontrarsi con la nostra orla. Ora marciamo verso la Cina, uno degli imperi più grandi del mondo. La Persia dovrà attendere ancora una volta prima di scontrarsi con la nostra orla. Sì, è un po' di scontrarsi. L'espagione del mondo è un po' di scontrarsi con la nostra orla. Grazie a tutti. La grande muraglia cinese. Il nostro esercito non è pronto per affrontarla. Gli esploratori hanno individuato un villaggio cinese a nord-est. Forse possiamo convincere alcuni igienieri d'assedio ogni sia noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo conquistato questa nave da trasporto. Grazie a tutti. 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 C'è la sua apple. Molto? C'è la sua apple? C'è la sua apple? C'è la sua apple? come lo volete ok 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 ospite ok ok all'fart ok Mott Timu, ti chifto Bidinbaan Zazza Fardach C'è un'imba. Amrmindo. Amrmindo. So why are you here? Finti. Timi. I am the master of this. Amrmindo. Sì, 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 sì. Shhh! Tiimo! Amar Mendo! Shhh! Barilak chung! Amar Mendo, Mot chung! Shhh! Zegher? Shhh! Gasp! Yeeeeh! Oh! Ah! Ha, ha, ha! Eh! Aw! Uh- What's your favorite weapon? Oh! I had nothing to play! Zahar Kimmo Pilimba Pilimba Parduk Zahar Amar Mendo Kimmo Mat Kip Parduk Mendo Parduk Piemu Parduk Kip Pidynba Kip 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, sì, sì. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, non lo so, non lo so, non lo so. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.